È un social molto corto che fa divertire nonni e nipoti, perché lo possono fare i nonni con i nipoti. E poi, e io ho fatto l'ultimo che ha 5 milioni di visualizzazioni, peccato, peccato che Alfonso Signorini, che dirige il Grande Fratello, non abbia apprezzato queste popolarità che ho. Ora ci torneremo, però a questo punto noi vogliamo far vedere, esattamente, lui voleva entrare al Grande Fratello, solamente che ha avuto proprio dei problemi, Alfonso Signorini poi ha detto vieni, poi ha detto non vieni, Alfonso, Alfonso in questo momento ti dedichiamo, allora, una cosa che è già andata in onda, guardiamo bene questo TikTok fatto da Antonio Razzi.